Ciao, sono Giorgio, ho 30 anni, sono un ingegnere biomeccanico e attualmente sono alla conclusione del mio percorso di dottorato in tecnologia per la salute presso il Dipartimento di Ingegneria di Informazione dell'Università di Brescia, un dottorato che è in collaborazione con l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e vede come mio tutor il professor Lopomo. Il progetto di ricerca portato avanti questi tre anni con il mio gruppo ha cercato di affrontare il problema della prevenzione delle insorgenze di malattie degenerative dell'articolazione come ad esempio lo stratrosi. Nello specifico abbiamo realizzato dei nuovi modelli computazionali dell'apparato muscoloscheletrico in grado di misurare in maniera più precisa e affidabile le forze di contatto dell'articolazione del ginocchio. Nello specifico abbiamo realizzato nuovi modelli computazionali dell'apparato muscoloscheletrico capaci di misurare in maniera più dettagliata e affidabile i carichi articolari a livello del ginocchio. Inoltre abbiamo esplorato la fattibilità nell'utilizzo di questi nuovi modelli insieme a sensori inerziali per l'analisi del movimento. Grazie a questo lavoro è possibile ora ampliare la valutazione funzionale del movimento delle persone e aprendo nuove strade nell'ambito della prevenzione dell'ostartrosi, dell'analisi dei fattori di rischio nell'infortunio dell'arte inferiore o più in generale della valutazione di carattere ergonomico sullo stato di salute del lavoratore.